Buonasera a tutti, mi presento, sono Stefano Muccioli, il responsabile della redazione riminese del resto del Carlino. Siamo qui ovviamente per parlare, per presentare il nuovo progetto di Karim e di Karim e assieme a me ci sono delle personalità che adesso vi presenterò. Abbiamo il professore in collegamento con New York, il professore Valerio Melandri, abbiamo il professore Sido Bonfatti, alla mia destra, presidente Karim, alla mia sinistra Gloria Lisi, vice sindaco di Rimini, ancora alla mia estrema sinistra Silvia Maraschio, vice presidente di Volontà Rimini e alla mia estrema destra Don Renzo Gradara, direttore Caritas Rimini. Ecco, innanzitutto vi spiego il motivo della mia presenza. Anche noi siamo in qualche modo coinvolti in questo progetto come il resto del Carlino, un progetto che ci piace, poi ovviamente ve lo ristreranno meglio gli altri presenti al tavolo. Noi come Carlino però abbiamo veramente creduto in questa cosa e ovviamente la sosterremo sul giornale come possiamo. Perché ci sembra una cosa assolutamente nuova, una cosa gratuita e una cosa che soprattutto in qualche modo risponde a un bisogno che voi rappresentate oggi in questa platea così numerosa e che conoscete sicuramente meglio di noi. Ecco, però io non mi dilungherei in altre parole, ma innanzitutto farei parlare, in collegamento con New York, il professor Valerio Melandri. Eccolo. Professor Melandri, ci può spiegare che cos'è il crowdfunding? Dunque, intanto è molto difficile fare un discorso da qualche chilometro di distanza. Proverò a tenere alta l'attenzione andando subito sul pratico e sul concreto e intanto chiedendovi se si sente bene, se va bene questo tipo di tono. Benissimo, benissimo. Ok, perfetto. Allora, il crowdfunding è una cosa molto semplice che per la verità ha avuto molto più successo sui media rispetto ai suoi effettivi risultati, però è una buona promessa, una cosa interessante. Quindi, sono contento di poter presentare una cosa di questo genere per Eticarin, per la cassa di risparmio di Rimini. Quindi, vi ringrazio di avermi chiamato. Io, come avete detto, mi chiamo Valerio Melandri, insegno all'Università di Bologna e poi sono stato chiamato quest'anno e l'anno scorso a fare un corso anche qui alla Columbia University dove insegno fundraising. Detto in parole molto povere, il crowdfunding che cos'è? Crowdfunding, cioè molta gente, crowd, folla, funding, raccolta, soldi. Molta gente che dà dei soldi, crowdfunding. Quindi, se è una cosa molto semplice, perché di fatto le vecchie collette di una volta o tanti altri strumenti che una volta si utilizzavano, le raccolte popolari, il porta a porta, erano sostanzialmente crowdfunding, cioè un popolo, un gruppo di persone che dà dei soldi. La vera differenza è che questa cosa qui viene implementata attraverso internet. Come funziona? Molto semplicemente sono due sostanzialmente gli schemi del crowdfunding. Da una parte quello che prevede un piccolo regalo alla fine per coloro che hanno dato i soldi ed è il crowdfunding classico, Kickstarter o altri tipi di piattaforme in cui sostanzialmente chi mette dei soldi riceve in premio o il prototipo del prodotto che è stato pensato o il proprio nome nei titoli di coda se ha finanziato un film o un qualche piccolo premio in aggiunta. Ma non è il nostro caso. Il nostro caso è quello del crowdfunding puro, cioè quello della donazione sulla base di un progetto che viene presentato online dall'organizzazione o da persone all'interno dell'organizzazione. Per intenderci, vi dico subito che ci sono al mondo almeno un migliaio di piattaforme di crowdfunding, cioè nel mondo esistono circa mille eticarim e hanno raccolto circa, negli Stati Uniti che è il paese dove si raccoglie di più con questo strumento, circa 5 miliardi di dollari rispetto a una raccolta fondi negli Stati Uniti che ruota intorno ai 400 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di più o meno un 10%, un 8%, un 10% della raccolta fondi oggi negli Stati Uniti viene fatta attraverso il crowdfunding, che non è molto ma non è nemmeno poco, quindi c'è una speranza molto grande. Io non so a che cosa voi siete interessati, se volete vi dico quali sono alcune regole basi per avere successo e qualche cosa per non avere di sicuro successo nel crowdfunding. Però ditemi un po' voi se avete richieste. Ce lo spieghi, ce lo spieghi. Quante ore ho? Un paio di ore? Due giorni? Una ventina di minuti. No, no, ma in dieci minuti facciamo tutto. Anche perché è noioso ascoltare uno dal video, è molto più bello vederlo di persona, quindi dopo poi vi lascio. Diciamo che sostanzialmente il crowdfunding non funziona sulle organizzazioni non profit in generale. Cioè uno non può dire io ho solo la croce rossa, dammi dei soldi crowdfunding. Perché non funziona? Il crowdfunding funziona innanzitutto, punto numero uno, se c'è un obiettivo limitato, se c'è un obiettivo specifico, se è ben chiaro l'impatto che si vuole ottenere con questa richiesta di fondi. Quindi non esistono le raccolte generiche, non esistono le raccolte in generale delle organizzazioni non proprie. E' bene dire vogliamo spedire 100 letti nel Malawi, vogliamo fare 5 classi e costa 1000 euro, vogliamo fare questa cosa ento il. Cioè deve essere molto specifico l'obiettivo, molto specifico il denaro che viene richiesto e molto specifico la timeline, cioè la scadenza. E vi dico subito che più di tre mesi non può funzionare, da un giorno a tre mesi. Cioè il crowdfunding è uno sprint, non è una maratona. La maratona è la raccolta fondi di tutto l'anno, degli anni, nel corso degli anni. Ma il crowdfunding è uno sprint che uno fa fare alla propria organizzazione, alla propria causa. Punto numero due. Studi scientifici. Tra l'altro vi dico solo questo, tanto per intenderci, che se nelle prime 48 ore non si raccoglie almeno il 30%, gli studi dimostrano, del potenziale, di quello che si ipotizza di raccogliere, le ricerche dimostrano che praticamente quasi tutti quelli che non riescono a raccogliere, nelle prime 48 ore almeno il 30%, non arriveranno alla fine e non porteranno a casa il risultato. Quindi i primi due o tre giorni sono fondamentali perché il crowdfunding abbia un effetto virale e quindi poi si espanda nel corso delle settimane a seguire. Secondo punto fondamentale. Occorre possibilmente dare un piccolo premio, non in termini economici a chi dona, ma in termini relazionali. Intendo dire che occorre una sorpresa per il donatore che ha donato, occorre pensare per lui un oggetto che abbia a che fare con la missione specifica su cui si sta raccogliendo. Quindi ad esempio, non so, un oggetto simbolico che viene spedito o che viene mandato al donatore che abbia un riferimento rispetto alla rapporta fondi. Sto costruendo una casa, manderò un piccolo mattoncino portachiavi. Questo tipo di oggetti, non equivalenti rispetto alla donazione, ma come sorpresa, ma come regalo, come aggiunta, è abbastanza dimostrato che suscitano maggiore coinvolgimento. E poi regali in termini di persone, non in termini di oggetti. Cioè se il Presidente chiamasse uno per uno tutti quelli che hanno chiamato al telefono, se il Presidente andasse a trovare o scrivesse una lettera a mano o facesse un dialogo con le persone che hanno donato, questo suscita ulteriori coinvolgimenti e quindi si sviluppa di più il crowdfunding. Terzo punto, audience, fondamentale. Non si può parlare a tutti, quindi va definito con attenzione a chi ci rivolgiamo. Una possibilità, gli attuali donatori. Seconda possibilità, quelli che insieme a me stanno facendo questo progetto, i partners. Terza possibilità, tutto il mondo dei miei social media, Facebook, Twitter e così via. Quarta possibilità, chiunque. La quarta è da scartare. Va definito con grande cura a chi mi sto rivolgendo quando faccio un'azione di crowdfunding. Altrimenti se parlo a tutti non parlo a nessuno. Il mio network, cioè le persone che mi vogliono bene su Facebook, che mi hanno fatto il mi piace, che sono legate a me online, va attivato, ma non va attivato prima che voi abbiate già raccolto almeno il 25-30%. Altrimenti se il network viene attivato troppo in anticipo, poi perde di motivazione perché vede che non c'è nessuna possibilità e nessun risultato già attivo. Quindi prima si mette in cascina il 30% e poi si spara su Facebook e su online e su qualunque altro tipo di social media. Quarto punto. Storytelling vuol dire bisogna raccontare per bene una bella storia. Non è possibile raccogliere in generale. Non c'è il generale nella raccolta fondi di Grafani. Ci vuole una bella storia, una storia con un obiettivo, con degli impatti molto chiari e molto specifici, capendo chi è coinvolto precisamente in questa cosa. Un bel video di un minuto, molto breve, che lanci in modo chiaro qual è l'obiettivo e l'impatto. Eventualmente fare delle Twitter conference, quindi rendersi disponibili per chiacchierare via Twitter con coloro che sono interessati al crowdfunding. anche fare un po' di campagne offline con lettere scritte a mano, con comunicazioni attraverso il giornale. Avete il giornalista presente che sicuramente può essere di grande aiuto per far lanciare delle campagne di crowdfunding. Foto, storie vere, foto fatte con l'iPhone, foto di pessima qualità, non mi interessa, l'importante è che siano vere. Tutte le foto edulcorate fatte in Photoshop su crowdfunding non funzionano. Le foto vere venute male, ma comunque veritiere del progetto sono le migliori in assoluto. Quinto e ultimo punto, ad ogni campagna di raccolta fondi in crowdfunding occorre che si scatenino persone dentro l'organizzazione che facciano le loro mini campagne di crowdfunding. Cioè che ci sia un personal fundraising, chiamiamola così, per cui Valerio Melandri dell'organizzazione non profit sta sostenendo l'organizzazione non profit e a sua volta si è messo a fare il suo crowdfunding con i suoi amici, i suoi colleghi, il suo gruppo di relazioni. Quindi, e qui, quello che conta non è avere tante persone, ma avere persone che hanno molti contatti e molte volte sono i bambini, sono gli adolescenti, sono le persone giovani. Quindi quando io riesco a scatenare gruppi di questo tipo di persone ottengo molti più risultati. Questi sono i primi cinque punti. Poi potrei parlare, e siccome quando io inizio a parlare non smetto più, è il mio problema. Cosa le pensi di questo progetto, di Eticarim, dell'idea che comunque una banca possa intervenire a dare uno strumento di questo tipo? Guardi, che la banca intervenga per uno strumento di questo genere è una notizia straordinaria. Per cui io sono entusiasta dell'idea che una banca si metta a fare questa cosa. Mi permetto di dare qualche piccolo consiglio? O non posso? No, no, prego. Ok, perfetto. Secondo me, lo strumento è eccezionale e io sono ben contento che la cosa venga qua, venga in Romagna, nella mia Romagna. Io abito a New York per un certo periodo, ma sono romagnolo, quindi sono ben contento di sostenere più che posso questa iniziativa. Allora, nei nostri studi, nelle nostre ricerche, noi sappiamo alcune cose. Che le piattaforme di crowdfunding che hanno avuto successo hanno rispettato più o meno queste cinque categorie. E devo dire che dopo che ho analizzato Reticarim, perché mi hanno dato una password, quindi ho potuto guardare il sito prima del pubblico, quindi sono ben contento di averlo potuto analizzare in questi giorni, devo dire che queste cinque categorie ci sono tutte. Vanno implementate e ulteriormente potenziate. Allora, punto numero uno. Come si presenta il sito, il look, il feeling, l'impatto, deve essere quell'impatto lì è come si trasferisce alla piattaforma sul mondo. Quindi, se voi fate un look, un, diciamo così, faccio un po' fatica, un feeling, nel senso che è un impatto sul web antico, verrete percepiti antichi. se fate un percepito moderno, verrete percepiti moderno. Secondo me, la presentazione di Reticarim è molto ben fatta, quindi sappiate però che la gente giudica sui primi 20 secondi appena entra nel sito e da quel momento lì in poi siete quelli voi. Quindi occhio a come vi presentate, alla scelta dei colori, alla scelta della grafica, perché a differenza dell'offline, nell'online è un attimo avere un giudizio sbagliato rispetto a quello che uno vuole dire e questo conta molto rispetto all'immagine che uno si è dato. Secondo punto, le piattaforme che hanno avuto successo di queste mille piattaforme, le piattaforme che hanno avuto successo sono quelle facili da usare. Voi avete messo solo quattro punti nel menu, è molto semplice, sembra molto facile da usare, io non l'ho usata ancora, però dovete veramente rendere a prova di stupido, nel senso buono del termine si intende, l'utilizzo della piattaforma, perché più è facile più funziona, ma facile vuol dire facile, vuol dire che tutti la devono capire il più semplicemente possibile. Se voi andate a vedere Kickstarter, la piattaforma di carofanning più sviluppata al mondo, è banalissima nell'utilizzo. Due menu facilissimi da usare. Terzo punto fondamentale, il processo di pagamento, deve essere molto veloce, sotto i 30 secondi, sotto i 50 secondi, deve essere molto molto veloce, più è veloce e più ha successo. Voi siete una banca, quindi è fantastica l'idea che una banca possa fare il processo di pagamento veloce. Quarto punto, quanto si paga alla piattaforma? tutte le piattaforme che hanno avuto successo sono quelle dove non si paga o non si paga la fee, diciamo così, la fee nel senso non so, il 5%, il 2%, il 3% rispetto a quello che viene donato o addirittura fanno dei match giving. Cosa vuol dire match giving? Vuol dire che aumentano la donazione effettuata con una piccola donazione in aggiunta, non so, ogni 100 euro raccolti la banca o chi per lei mette 5 euro, 2 euro, 10 euro, quindi c'è come un incentivo a usare quella piattaforma piuttosto che l'altra. In realtà il costo di questa roba qui è molto limitato ma l'effetto virale è molto alto perché in questo modo tutti sono incentivati a usare quella piuttosto che quell'altra. E infine, quinto punto, le piattaforme che hanno avuto successo sono quelle che hanno una trazione intorno, nel senso che ad esempio io stamattina ho guardato il sito della Cassa di Risparmi di Rimini e ho visto che c'è una news su Eticarium, però sarebbe importante mettere un bel banner di Eticarium dentro il sito della Cassa di Risparmi di Rimini ma poi tutti i clienti della Cassa di Risparmi di Rimini dovrebbero avere la possibilità anzi incentivati di mettere il banner di Eticarium e poi laddove riusciamo a mettere il banner di Eticarium cioè vorrei che fosse chiaro che è Eticarium stessa che deve portare traffico sulla sua piattaforma, non solo le organizzazioni, quindi le piattaforme che portano traffico, che sono trazione di traffico sono quelle che hanno successo. Grazie, grazie professore, il suo intervento mi è sembrato veramente molto interessante, credo che anche i presenti faranno tesoro dei suoi suggerimenti, io le posso dire che le soliteremo la Romagna e oggi qui c'è un bel sole, mi auguro anche New York. Grazie di nuovo. Grazie, grazie, alla prossima. Ecco, dopo che il professor Melandri ci ha un po' illustrato in maniera secondo me molto interessante e molto intelligente i sistemi che ci possono essere per trovare soldi, per trovare delle risorse da destinare alle vostre attività, ora, credo che il padrone di casa, il Presidente Bonfatti, ci possa in qualche modo spiegare meglio come funziona questo nuovo strumento di CARIM e come declinarlo nella nostra realtà locale. Bene, grazie a molti, buonasera a tutti, vi ringrazio di aver partecipato numerosi a questo piccolo evento. Vi confermo, il nostro è un crowdfunding sociale, non è un crowdfunding di impresa, anche se non escludo che in futuro si possa immaginare questo strumento non soltanto per finanziare dei progetti con un impatto sociale ma anche per finanziare dei progetti con un impatto economico. Forse è uno strumento tipico per le cosiddette start-up, cioè le imprese che partono con delle idee molto buone o almeno apparentemente molto buone ma con poco sostegno finanziario. Non è però o non è ancora il nostro caso, noi con questo ci proponiamo di offrire uno strumento non ancora alle imprese ma alle associazioni, agli enti e in generale ai soggetti che appartengono al mondo cosiddetto del no profit. Siamo in una regione nella quale abbiamo contato quasi 2000 organizzazioni di questa natura e quindi pensiamo che questo strumento dovrebbe trovare un certo successo. Hanno talora forma di associazione, talora forma di cooperativa sociale, talora forma di fondazione riconosciuta o non riconosciuta e ci è sembrato anche abbastanza naturale che essendo noi una ex fondazione, una ex cassa di risparmio, una ex banca pubblica, costituito ai suoi tempi per scopi diversi principalmente da quello come dire lucrativo, fosse in qualche modo possibile riallacciarci alla funzione originale dell'ente, rinsaldare la vocazione etica che aveva banca eticredito che è stata incorporata ormai con un passaggio incominciato due anni fa ma concluso appena un anno e qualche mese fa e che ha come dire portato alla banca come impresa commerciale questa attenzione se non vocazione alle ricadute sociali della propria attività. Non so quanti al momento del progetto dell'incorporazione di eticredito abbiano creduto alla promessa che Banca Cari ma avrebbe continuato e possibilmente potenziato l'attività di eticredito forse in una banca commerciale questo tipo di promessa poteva considerare una promessa che non sarebbe stata mantenuta non sarebbe stata mantenuta con la sufficiente concentrazione. Invece da un punto di vista sia istituzionale sia operativo mi pare che noi abbiamo mantenuto fede a questo binomio Cari metti credito che come vi dicevo si proponeva di avere attenzione oltre che all'attività di impresa tradizionale anche alle ricadute sociali intanto con una strutturazione che caratterizza la banca anche dal punto di vista organizzativo noi siamo forse l'unica banca commerciale che ha fra i suoi enti anche un comitato etico e il comitato etico è quello che verifica che questa promessa sia effettivamente mantenuta e non sia stata soltanto vana e vacua e che credo abbia verificato che fra le attività poste in essere in questa direzione c'è stata anche quella del bilancio sociale che per una banca non è proprio un'iniziativa scontata ma poi la conferma nella erogazione di prestiti di microcredito che era già tipica di banca e di credito la innovazione di prodotti come il social bond e poi l'attivazione di alcuni partnership che sono qualificate o per il soggetto o per la tipologia di prodotti e di servizio che presentano mi soffermerei un attimo sul social bond che è un prodotto innovativo ma che potrebbe esserlo di più scherzando questa mattina in una presentazione alla stampa dicevo che finora i nostri social bond sono stati molto bond e un po' meno social nel senso che questo strumento può avere due declinazioni la prima è sottoscrivete un prestito obbligazionario riceverete la cedola che ricevereste con un altro prodotto finanziario però la banca promette che destinerà una parte dei proventi che si ripromette di conseguire impiegando questa provvista a un certo progetto di rilevanza sociale quindi la collaborazione del sottoscrittore è soltanto nel senso di scegliere un prodotto finanziario rispetto a un altro a parità di rendimento però con il vincolo da parte dell'emittente il prestito che utilizzerà una parte dei proventi derivanti da questa attività per un certo progetto il social bond social social è un po' diverso è quello che associa a questo contributo dell'emittente cioè la banca anche la destinazione di una piccola parte dei proventi del sottoscrittore cioè il sottoscrittore dice fra un BTP al 5% e un social bond al 5% che è funzionale a finanziare la costruzione di un asilo preferisco sottoscritti il social bond perché la banca ci mette una parte del suo guadagno e io ci metto lo 0,50% della mia cedola non siamo ancora arrivati a questo social bond social social ma io spero che le prossime emissioni possono essere caratterizzate da questa particolarità va in questa direzione il crowdfunding che come diceva il professor Melandri è modestamente o se volete in modo antiquato una colletta questo non è uno strumento di finanziamento con una attesa di restituzione ma è uno strumento donativo è una donazione che viene fatta diffusa su molti soggetti come ci ha spiegato il professor Melandri che confluisce a finanziare un progetto ora questo vorrebbe dire che invece di rivolgersi come si è fatto finora ad alcuni soggetti istituzionali come sono le banche per il finanziamento di progetti che abbiano ricadute sociali ci si può rivolgere anche a un numero molto più vasto di soggetti chiedendo a loro un contributo evidentemente più ridotto nel nostro caso vi anticipo lo si vede dal portale lo si leggerà domani sulle croniche dei giornali i contributi partono da 10 euro per arrivare fino a 500 per le persone fisiche e fino a 1000 per le persone giuridiche diciamo qua non più e non solo tanto da pochi ma poco da molti possibilmente sottolineo la colletta la potremmo chiamare colletta telematica perché cerca di favorire la raccolta di questo chiamiamolo risparmio donativo diffuso attraverso lo strumento del web e lo strumento di internet sia dal punto di vista della collocazione e della pubblicizzazione dei progetti che si intendono finanziare sia dal punto di vista dell'accesso a questi progetti e dal punto di vista dei potenziali donatori che lo fanno attraverso internet e lo fanno attraverso questi strumenti moderni ma possibilmente semplici di trasferimento di fondi sottolineo la circostanza che quelli che sono destinatari di questo prodotto dal punto di vista della opportunità di individuare dei progetti da sostenere finanziariamente sono e sono esclusivamente associazioni cooperative sociale e in generale enti non profit cioè sono soggetti che secondo noi hanno una rilevante valenza reputazionale questo ci ha consentito di come dire caratterizzare la nostra piattaforma sotto due profili il primo scegliere l'opzione che non è comune a tutte le piattaforme di questo genere di destinare al progettatore all'autore del progetto tutta la raccolta conseguita nel periodo interessato anche se non avesse conseguito l'obiettivo di centrare l'intero importo richiesto ai sottoscrittori perché è possibile che questo soggetto visto la reputazione che lo caratterizza non li utilizzi per quel progetto non avendo conseguito quanto richiesto ma li utilizzi per un progetto per un'attività che possiamo considerare ugualmente meritevole e come dire suscettibile di raccogliere un sostegno finanziario fra il pubblico seconda caratteristica l'obbligo di rendicontazione molto spesso si è frenati quando vengono sollecitate aiuti contributi finanziamenti dal dubbio di quale sia la sorte che questo denaro affluisce da qualche parte magari poi non si sa bene se non si perde per strada qui non si deve perdere per strada o se si perde per strada si deve sapere chi l'ha perso e come mai e perché perché chi chiede la collocazione di un progetto su questa piattaforma è tenuto a una certa distanza dall'esaurimento della raccolta dei fondi di rendicontare tutti o quanti abbia comunque raccolto e di spiegare se e perché abbia o non abbia conseguito il programma in forza del quale aveva raccolto i relativi fondi la organizzazione di questa piattaforma come dicevo consente a chi intenda utilizzarla attraverso l'aiuto di un tutor che apparterrà all'organizzazione della banca e all'organizzazione del comitato etico che svolgerà una funzione in questo contesto di collocare sulla piattaforma una serie di progetti da finanziare dopo che avranno ricevuto una sorta di imprimato da parte di una commissione etica la commissione etica è fatta semplicemente dal comitato etico della banca che vi ricordo deriva dagli esponenti aziendali di eticredito più un componente della banca stessa che aiuterà l'organizzazione e la collocazione dei progetti sul portale e poi l'accesso alle risorse di finanziamento gli strumenti di pagamento che potranno essere utilizzati sono la carta di credito sono il bonifico sono il nostro sistema di pagamento MyBank e qui confermo quello che diceva il professor Melandri con una annotazione che mi porterà via soltanto pochi secondi si tratta di attività gratuite nel senso che non comportano costi di cui benefici la banca e non comportano commissioni a favore della banca su questo io però vorrei fare una precisazione perché è una questione non scontata e non banale in realtà quasi tutte le piattaforme prevedono una remunerazione per la piattaforma stessa molte la prevedono in connessione con il caricamento del progetto vada come vada altre lo prevedono in relazione al successo del progetto se e in quale misura il progetto abbia avuto successo noi siamo stati incerti nel prevedere l'una o almeno la seconda delle commissioni perché da un punto di vista ideologico io non sono tanto convinto che sia preferibile la totale gratuità noi siamo una impresa siamo un'impresa commerciale siamo un'impresa che desidera avere una attenzione alle ricadute sociali della sua attività ma non siamo un ente benefico non siamo la fondazione la fondazione le fondazioni o i filantropi sono un'altra cosa allora la totale gratuità dello strumento ci sembrava un po' incoerente con questa distinzione ideologica a cui noi teniamo perché se poi non abbiamo successo come banca non possiamo dire che però abbiamo successo come ente benefico perché non siamo fatti per essere un ente benefico però abbiamo avuto la preoccupazione che siccome le banche non godono di grandissima reputazione in generale in generale nel tempo ma in particolare in questo momento la previsione di una forma di remunerazione potesse essere in qualche modo travisata e allora ha fatto gioco questa preoccupazione rispetto all'altra abbiamo sacrificato la coerenza ideologica e abbiamo confermato diciamo così che è tutto gratis proprio come se fossimo un ente filantropico propriamente detto come vi dicevo caricato il progetto sul portale chiunque abbia dimestichezza o sia sollecitato dovere dimestichezza col web fa sul portale vede che ci sono dei progetti può contribuire con la sua donazione dico chiunque abbia dimestichezza o chiunque sia sollecitato dovere dimestichezza sollecitato da chi? sollecitato dalle associazioni che presentano un progetto l'associazione che sente un'esigenza per un associato o per un assistito non è in condizione di soddisfarla per carenze di carattere finanziario delinea un progetto e la colloca sul portale poi dovrebbe essere conseguente e noi domandiamo che sia conseguente che sensibilizzi gli associati coloro che sono collegati con la sua rete di informazione perché consapevoli che c'è un progetto suscettibile di essere finanziato lo facciano con il loro contributo minimale oggi noi abbiamo già alcuni progetti sul nostro sito io ero imbarazzato da una parte nel presentarveli tutti perché vi avrei portato via troppo tempo dall'altra parte di presentarveli soltanto uno perché sarebbe stato un segnale preferenziale magari inopportuno nei confronti degli altri poi però non ho resistito alla tentazione di descrivervi almeno uno e ho fatto una scelta che è testimonia del perché noi siamo un po' preoccupati che come ci ha detto anche il professor Belandri nonostante la idoneità tecnica di questo strumento poi il successo di questo strumento non si è affatto scontato perché molti altri hanno strumenti altrettanto adeguati da un punto di vista tecnico però come dicevo questa mattina hanno dei portali con dei progetti morti morti perché sono lì da sei mesi nessuno li ha finanziati e prevedibilmente nessuno li finanzierà forse non perché sono dei progetti valordi ma perché non c'è stata quell'attività di sensibilizzazione che abbia attenzionato i possibili donatori in pectore perché anch'io come forse molti di noi sono un donatore potenziale ma in parte pigro e in parte con un'attitudine moderata agli strumenti telematici e la mia esperienza personale mi porta a dire che l'unica situazione nella quale abbia potuto esprimere quel mio spicchio di solidarietà riguarda proprio un progetto che è simile a uno di quelli che sono oggi caricati sul portale che si chiama una casetta per gli ultimi è presentato da una onlus che si chiama rifugio del Prig e dell'Ulmo tanto che chiama Ulmini gli ospiti di queste casette ed è un progetto che si propone di costruire alcune supplementari perché già alcune ce ne sono casette per i cani in fase terminale cioè quei cani che neanche i canini possono tenere più perché il costo dell'assistenza non riesce a come dire essere sopportato perché vi faccio questo esempio perché anch'io come esempio di donatore potenziale ma pigro e un po' inadeguato da un punto di vista telematico sostengo nel mio piccolo un progetto di questo genere non dico solo ma soprattutto perché è comodo forse voi sapete o forse no che l'empa di alba è un'associazione della protezione animali che raccoglie i cosiddetti come dire cani combattenti cioè quando in un qualche canile soprattutto del sud vengono fatte delle retate si scoprono che vengono organizzate scommesse clandestine con dei cani che vengono iniziati l'uno contro gli altri l'empa di alba li prende da Napoli Sorrento Trapani o dove che siano e li porta ad alba e cerca di recuperarli dove il recupero è più psicologico che fisico perché magari qualcuno ha qualche acciacco qualche ferita qualche morso ma se lo portano ad alba vivo li sopravvive ma sono tutti schizzati perché evidentemente in questi combattimenti viene enfatizzata l'aggressività certamente non l'equilibrio l'empa ha inventato da tempo la adozione a distanza e dice guarda c'è questo cagnolino di cui ti mando le fotografie la storia l'evoluzione la cura il recupero e poi il ricollocamento in una famiglia in un altro contesto tu per piacere mandami 10 euro al mese 15 euro al mese che contribuisce alle spese di recupero se me le mandi con un addebito in conto firmi una volta per tutte l'addebito in conto sei tranquillo con la tua coscienza e io consego le risorse economiche attraverso le quali per seguire questo obiettivo ora se voi vedrete per curiosità ma mi auguro non solo per curiosità il progetto che si chiama una casetta per gli ultimi credo che vi troverete le caratteristiche questo mi ha fatto molto piacere che il professor Melandri indicava come fattori di successo uno un progetto preciso cioè non dateci un po' di soldi perché ne abbiamo bisogno dobbiamo fare tre casette di una superficie di 16 metri quadri di cui nove chiusi e sette di portico cioè una identificazione molto puntuale del progetto due durata vedrete dal portale dal 24 ottobre al 22 gennaio 2015 i famosi tre mesi tre una storia io non ve la leggo ma potrete vedere vi sono delle persone che dicono noi siamo persone normali però abbiamo questa sensibilità abbiamo insieme messo un po' di disponibilità alcuni ci riusciamo non possiamo prendere dappertutto dateci una mano che poi vi diciamo come siamo riusciti a fare quattro un video e un po' di fotografie che vanno a capire che cos'è che c'è e che cos'è che potrebbe essere arricchito attraverso questo progetto allora io dico domani credo che non trovo una banca aperta con la quale andare a fare una donazione a una casetta per gli ultimi però siccome dice il professor Melandri che le prime 48 ore sono quelle che decidono il successo di un progetto lunedì vincendo la pigrizia di dover andare attaccarmi a un pc e fare una donazione credo che potrebbe essere uno dei casi nei quali la sensibilità mia per gli animali di altri per gli altri progetti che sono caricati trovo uno strumento comodo per come dire dimostrare un minimo di solidarietà che contribuisca con uno sforzo modesto di carattere economico e di carattere organizzativo a conseguire poi degli obiettivi di tutto riguardo chiudo io ho un po' di esperienza di questo strumento perché è uno strumento che è già attivo alla banca interprovinciale di cui ero presidente prima di venire a Rimini alla banca interprovinciale purtroppo essendo capitato il terremoto qualcuna delle ricostruzioni tipo un asilo tipo una casa per anziani è stata favorita da questo strumento dove la gente anche non del posto ma di Modena e provincia ha detto beh se devo mettere 20 euro che tutti insieme mi garantiscono che vanno a costruire l'asilo magari ce li metto se poi è anche comodo perché è semplicemente passare in banca a fare un bonifico e poi vedere ogni sei mesi se l'asilo avanza o non avanza e perché in ipotesi non avanza mi dà anche la garanzia di poter sapere dove sono confluite queste risorse a cui ho contribuito per cui ovviamente il mio incentivo e la mia raccomandazione è di considerare con attenzione il progetto perché ci interessa molto che abbia successo ma anche e soprattutto le finalità per cui è stato costituito grazie mille grazie grazie al professor Bonfatti e credo che a questo punto dopo i primi due interventi incominci a farsi più chiaro il tipo di strumento con cui ci troviamo di fronte e quali possono essere le potenzialità e comunque le modalità di uso di questa cosa ecco a me piacerebbe sentire anche dal vice sindaco da Gloria Lisi quali sono le possibili interconnessioni o le sinergie anche con le istituzioni per uno strumento per una possibilità di cambiare anche il nostro welfare grazie grazie a tutti buonasera quando il presidente Bonfatti mi ha incontrato nel mio ufficio mi ha presentato questo progetto ho avuto particolarmente piacere che nel nostro territorio fosse attivato un progetto di questo tipo perché sapete bene in che situazione siamo in che momento storico siamo e quindi sapere che c'è un progetto che aiuta partiamo dal discorso di Craun che faceva prima il professor Melandri quando noi pensiamo a tutta la gente pensiamo a tutta la cittadinanza e penso che in questo momento abbiamo più che mai bisogno di rispettare il logo che veniva presentato prima quelle mani una sull'altra e ognuno fare la nostra piccola parte perché dobbiamo ragionare un po' che siamo una comunità e questo come istituzione lo vediamo in alcuni momenti particolari dell'anno vi faccio degli esempi concreti quando organizziamo la plenaria dei tavoli di zona dei piani di zona abbiamo la sala del giudizio piena di associazioni di istituzioni che insieme ognuno portano il loro contributo il loro progetto piccolo grande che sia che viene presentato poi a secondo dei tavoli tematici a tutte le persone e le altre associazioni che fanno parte di quella particolare materia i fondi quindi noi a volte diamo per scontate che certi strumenti siano ormai consolidati ed è normale che funzionino in realtà venendo anche da esperienze di altri territori vediamo che non in tutti i territori le esperienze dei piani di zona sono così fortunati e lì si ha veramente la possibilità e si tocca con mano che veramente c'è una sinergia fra il no profit fra il terzo settore l'università la ASL il comune i comuni che fanno parte del distretto e ci si accorge come si riesca insieme a portare avanti dei progetti avendo però quelle finalità che sono prima illustrate anche dal professor Melandri cioè avere progetti che incidono sul territorio direttamente che hanno una durata temporanea che hanno la possibilità di essere controllati e quindi che danno anche alle persone all'ente pubblico che in quel caso eroga o aiuta le associazioni gli enti nel portare avanti questo progetto avere anche una affidabilità di questi progetti quindi le relazioni continue il rapporto continuo con le associazioni per poi andare a verificare con mano che le risorse pubbliche vadano a buon fine questo è una cosa abbastanza scontata e usuale per gli addetti ai lavori invece magari per altri per chi non si occupa di volontariato di terzo settore direttamente non è una cosa così scontata quindi mi piaceva un po' in premessa richiamare a questo strumento e poi vi faccio anche un altro esempio da otto anni il comune di Rimini organizza il mese delle famiglie allora mentre nei piani di zona quando facciamo la plenaria diamo le indicazioni che ci vengono dalla regione per poi poter contribuire con fondi regionali nazionali o anche risorse comunali quelli che sono i progetti che ci vengono presentati dalle associazioni e quindi diciamo che è abbastanza normali che il terzo settore venga e partecipi a quei tavoli quando organizziamo il mese delle famiglie non siamo lì per dare contributi ma per chiedere e vi assicuro che normalmente organizziamo queste plenarie in un giorno feriale di mattina quindi quando tutto il terzo settore è anche normalmente impegnato in attività lavorative in quello che sta facendo eppure la partecipazione è altissima e voi vedete che in giro per la città nelle scuole dei vostri figli o dei vostri nipoti ci sono questi programmi del mese delle famiglie dove ogni associazione ogni cooperativa la ASL o l'università tutti insieme formano un programma che addirittura arriva a avere quasi due mesi di programmazione quasi quotidiana che a volte ci sono anche incontri penso anche a questo weekend dove non si sa bene dove andare perché sono talmente tanti e lì si vede chi siamo siamo un territorio che è pieno di realtà che non vengono solo a chiedere all'ente pubblico ma che è quando l'ente pubblico sollecita e chiede cosa puoi fare tu per approfondire il tema delle famiglie che passi da la prevenzione quindi su certe scuole assoluti e benessere il progetto con l'università oppure semplicemente i progetti con l'ASL tutti i progetti delle associazioni che passano veramente dagli aspetti più vari dal club alpino italiano a tutto quello che è il nostro panorama che è ricchissimo e si vede che c'è una grandissima adesione quindi questo è anche un ritorno che in una sede come questa ci tenevo a fare per ringraziare anche quello che è il nostro territorio che quando è sollecitato risponde quindi penso che se abbiamo dei cittadini come questo si possa avere un ritorno anche su un percorso bello come quello del crowdfunding quindi che stimola tutti a farsi carico un po' di tutta la nostra comunità e passo a scusate allora la realtà territoriale è quella che tutti voi conoscete chiaramente stiamo vivendo una delle crisi socio-economiche più dure che il nostro paese ma non solo anche in ambito internazionale ci stiamo attraversando è quello che ha portato un disagio sociale fortissimo e la fascia di popolazione interessata è sempre più ampia e quindi abbiamo dovuto definire quelle categorie di nuove povertà quindi i giovani le coppie con i lavoratori con i lavori precari le famiglie in monoreddito i nuclei in regime di separazione coniugale dopo un anno di osservazione quindi conoscendo imparando un po' a conoscere quali erano i bisogni delle persone che si rivolgevano al servizio sociale del comune abbiamo entrato in vigore quello che abbiamo definito un pacchetto welfare per rispondere ai nuovi interventi per fronteggiare appunto queste situazioni di grave disagio vi parlo vi elenco molto velocemente queste slide perché non so anche quanta attinenza abbiano al tema del crowdfunding era solo un po' per puntualizzare in realtà e dare un po' modo alla pratica di vedere quali sono i bisogni che il comune si trova ad affrontare quotidianamente e come stiamo cercando di rispondere a questo a questo momento di difficoltà quindi anche per dare magari qualche stimolo parlando un po' di quelle che è la carne viva dei nostri cittadini più in difficoltà chiaramente la situazione di disagio le risposte del territorio e gli interventi sono stati predisposti dal comune di Rimini e rispetto al discorso del appunto di avere questo pacchetto nuovo pacchetto welfare abbiamo puntato molto su uno stimolo che veniva dal piano strategico che è esposta l'attenzione da un welfare sulle condizioni di vita a quello delle capacità cioè pensare che ogni persona è messa al centro nel valorizzare le potenzialità partendo dalle situazioni più varie che possono riguardare anche persone che normalmente hanno un contesto sociale molto diverso molto anche un passato un vissuto anche molto difficile per poter essere reinserito socialmente quindi considerando la persona con le potenzialità che ha gli interventi iniziando a parlare delle delibere di giunta che abbiamo attivato nel pacchetto welfare sono interventi per famiglie ad esempio sfrattate in carico ai servizi sociali voi sapete che il nostro territorio ha un numero di sfratti elevatissimo fra i più alti anche a livello nazionale quindi abbiamo dovuto proprio agire su questa particolare problematica nel 2014 abbiamo avuto 12 interventi proprio su questo su questa particolare situazione dalle entrate in vigore però sono stati 75 avete anche modo di vedere gli importi che sono comunque importi abbastanza ingenti cerchiamo chiaramente di rinviare l'esecuzione dello sfratto oppure di facilitare il reperimento a una nuova abitazione oppure ricorriamo anche agli alberghi e i residents questi sono appunto contributi una tantum gli interventi per le nuove categorie di svantaggio sono cercano di andare a dare risposte selettive e puntuali al rapporto di complementarietà e di non sovrapposizione con gli altri servizi chiaramente parte tutto da un ascolto diretto della problematica della persona dalla quale il comune non può prescindere quindi conoscendo direttamente il singolo caso è una presa in carico che abbiamo definito leggera in ragione appunto di un limitato spretto di bisogni su cui intervengo insistono gli interventi ad esempio la ricerca l'aiuto nella ricerca del lavoro l'abitazione la temporanea difficoltà economica sul discorso del lavoro ho visto che fra i partner c'è anche il fondo per il lavoro lì con la diocesi abbiamo distinto un po' il target noi come comune con il progetto dell'empowerment ci stiamo occupando degli over 45 anni quindi sono tutte quelle persone che uscite dal mondo del lavoro e avendo un'età non dico avanzata però non sono giovanissimi hanno più difficoltà ad essere reinseriti nel mondo del lavoro poi non posso citarle tutti gli interventi ma solo per puntualizzare un po' quello che era anche l'intervento richiamare l'intervento del professor Melandri quando abbiamo un obiettivo dobbiamo avere anche chiaro un target il target di cui ci prendiamo cura il presidente Bonfatti faceva appunto l'esempio dei cani al quale poi chi dava le donazioni a chi dà le donazioni vengono dati dei ritorni ecco avere individuato la categoria delle madri soli con figli minori gli invalidi civili con più del 75% gli ex detenuti residenti i padri separati le persone in condizioni di disagio psicosociale gli ultracinquantenni che hanno perso il lavoro dal 2009 con minori a carico e gli ultracinquantacinquenni che hanno perso il lavoro dal 2009 per ognuna di queste categorie vengono date delle risposte come vedete ci sono dei sì e dei no a seconda di dove andiamo a intervenire la cosa che riguarda il crowdfunding è anche pensare che quando ci sono chiaramente target che risvegliano una sensibilità maggiore rispetto ad altri nella mia esperienza personale quando ho conosciuto il presidente Bonfatti raccontavo che quando ad esempio si fanno raccolte fondi ad esempio nelle situazioni di emergenza ad esempio l'ultimo terremoto dell'Emilia oppure semplicemente se si fa un doposcuola per minori e si inseriscono quelle foto con quelle strumentazioni magari anche molto sì non così raffinata però hai un intervento diretto sai che tutti i giorni quel centro raccoglie dei bambini che non hanno la possibilità di fare i compiti allora le persone sono maggiormente stimolate a donare quando invece ci occupiamo di altre categorie le persone notoriamente hanno più difficoltà quindi è anche un nostro compito penso educativo cercare di abbattere un po' il muro che ha il pregiudizio ad esempio la categoria degli ex detenuti residenti quando io ho dovuto inserire in queste categorie di svantaggio ho fatto fatica anche con i miei stessi uffici perché la persona spesso che ha sbagliato viene già considerata una persona che è meno da aiutare piuttosto che altre e quindi questo era un po' per darvi un po' un riscontro il tempo normalmente queste slide le uso per interventi molto più lunghi quindi mi fermo vedo che il moderatore giustamente mi richiama il tempo semplicemente il discorso di riuscire a mettere in rete magari e questa c'è tutta la nostra disponibilità degli enti del terzo settore che hanno quel grado di affidabilità di rispondere anche di velocità nel produrre materiale relazioni tutto quello che richiamava l'intervento iniziale anche di poter dare un sostegno con i nostri uffici i nostri tecnici che comunque conoscono molto bene la situazione delle associazioni del terzo settore grazie 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 a Gloria Lisi mi dispiace contingentare il tempo ma temo che purtroppo per dare voce al bisogno del territorio servirebbero delle ore quindi purtroppo dobbiamo fermarci prima però mi piaceva adesso per esempio consiglio a Maraschio vicepresidente volontarimini affrontare un po' il tema di questa sfida che se vogliamo eticarmi lancia al volontariato cioè non si parte più dal bisogno ma si parte dalla qualità del progetto su come dare risposta al bisogno e quindi è su questo che bisogna confrontarsi in questo momento è un salto di qualità che la difficoltà del momento ci richiede ecco il volontariato liminese secondo lei ha le risorse la capacità e anche la mentalità per accettare la sfida su questo terreno secondo me il nostro volontariato ha le capacità perché comunque è un volontariato attivo che risponde ai bisogni anche in modo immediato come diceva prima Melandri il nostro volontariato è un volontariato che è abituato a fare la raccolta fondi quindi è abituato a usare strumenti di piazza di porta passaparola e questo strumento nuovo che oggi diamo vita quindi diamo lo start up è uno strumento che richiede alla nostra associazione di fare quel salto di qualità è uno strumento innovativo che chiaramente alla nostra associazione richiede un passaggio ulteriore non è più un passaggio immediato ma è un mettersi in rete in modo che tutti possono abbracciare questo progetto l'idea che loro hanno intenzione di realizzare chiaro che il volontariato con i suoi progetti e la sua raccolta fondi dà possibilità a chi investe sulle loro idee di avere un riscontro immediato perché poi il volontariato lavora in prossimità quindi quando farà la raccolta fondi le fa per le cose che sono o servizi che sono a noi vicini io faccio una breve una premessa un piccolo cappellino nel senso che volontarimi dove sono vicepresidente è il centro di servizio per il volontariato e quindi offre servizi alle associazioni di volontariato quindi noi veniamo in contatto con molte associazioni presenti sul nostro territorio farò una presentazione un po' veloce delle caratteristiche le peculiarità mi permetto di dire è della bellezza delle nostre associazioni quindi anche quando prima il dottor Moffanti parlava appunto del progetto di cui lui si sente coinvolto mi fa molto piacere perché poi effettivamente la donazione parte dal pathos dall'amore che si mette nelle cose che gli altri fanno perché sono i nostri delegati a farlo magari non riusciamo a farlo ma ci sono altri che per tempo o per attitudini riescono a farlo meglio di noi quindi volontarimi è il centro di servizio che ha l'obiettivo di sostenere qualificare e promuovere il volontariato quindi era doveroso essere presente all'interno di questo progetto e quindi siamo contenti di dare un supporto alle realizzazioni dei progetti delle associazioni che hanno messo nella piattaforma i progetti vorrei fare una lettura quantitativa perché nel nostro territorio sono presenti come prima si veniva illustrato associazioni di volontariato ma sono 306 associazioni di volontariato 135 associazioni di promozione sociale mi piace dare i numeri perché si dà anche la quantità di quante persone effettivamente sono coinvolte sul nostro territorio in azioni e servizi per il sociale quindi questo significa che molti cittadini sono attivi coinvolti e impegnati all'interno del tessuto socio-culturale e ambientale del nostro territorio sono numeri importanti che a volte il volontariato è silente opera e chi è un po' distratto preso da altro non se ne accorge riporto un dato sulla fonte del censimento Insta che parla di 25.300 volontari sul nostro territorio sembra un numero grandissimo effettivamente tra il volontariato la promozione sociale le cooperative ma anche le associazioni sportive delle tantistiche questo numero raccoglie proprio il nostro tessuto sociale adesso parto sulla parte più dove mi emoziono perché comunque mi piace parlare del nostro volontariato aspetti più qualitativi che cosa fa il mondo del volontariato si attiva per dare risposta ai bisogni crescenti dei soggetti più deboli anche a seguito del ritirarsi dell'ASE degli enti pubblici sul campo socio-assistenziale sanitario a caso di tagli della razionalizzazione dei servizi come appunto c'è stato appena detto dal vice sindaco Lisi come predisponendo trasporti per gli anziani disabili in ospedale visita a casa iniziative aggregative per persone emarginate quindi lavora su le difficoltà o comunque l'emarginazione questo è possibile attraverso i contributi l'autofinanziamento con eventi raccolta fondi devo dire che le nostre associazioni sono molto creative nella raccolta fondi e e comunque attivano non solo molto spesso la raccolta fondi non è solo una raccolta fondi di soldi ma anche di attivare le risorse o le capacità che hanno le altre persone quindi attivando il tessuto sociale vicino o in prossimità delle situazioni di emarginazione un altro punto è il volontariato offre servizi aggiuntivi integrativi a quelli sociosanitari regalando sorrisi ai reparti oncologici creando momenti di svago o con un abbraccio o un sostegno in occasione di eventi dolorosi improvvisi ma i volontari attraverso iniziative della raccolta fondi hanno donato macchinare e attrezzatura a diversi reparti qui parlo dell'ospedale Nuova Feltra l'ospedale di Riccione di Rimini di Sant'Arcangelo è un volontariato che pian piano proprio per la credibilità che si è creata nel suo operare e sul territorio a piccoli passi riesce a mettere qui piccoli mattoncini che Melandri diceva per riuscire a ottenere questi piccoli grandi successi che a parte la notizia sul giornale di un giorno per tutti noi cittadini in qualche modo volenti o non dolenti ne utilizziamo la loro ricchezza per la nostra salute altro aspetto è il volontariato promuove la prevenzione sostegno durante il decorso e percorso la guarigione stretta sinergia con i servizi sanitari molte delle nostre associazioni collaborano con i servizi sanitari quindi in collaborazione nei reparti proprio nell'obiettivo di non lavorare scollegati dietro un'idea ma proprio fare un lavoro di rete tra servizi sanitari e volontariato ma anche il cittadino altro aspetto è il volontariato si attiva in azioni di inclusione sociale di soggetti con bisogni speciali offre opportunità di integrazione e di abbattimento delle barriere qui vediamo un catamarano per le ragazze disabili e tutta una serie di attrezzature che permettono ai disabili di poter accedere ai normali servizi di cui noi stessi non pensiamo non cito i nomi delle associazioni perché farei torto perché sono tante ognuno fa qualcosa di valore quindi vedo alcune associazioni che sorridono perché si ritrovano ma per onestà intellettuale le immagini parlano più delle associazioni questo volontariato in particolare è impegnato a creare occasioni per promuovere l'autonomia di questi ragazzi speciali pensando anche a progetti sul dopo di noi è un tema molto importante il dopo di noi per le famiglie ma anche per questi ragazzi speciali e hanno proprio una ricaduta immediata perché poi chi vive vicino a queste realtà ne coglie subito la ricaduta il volontariato promuove i convoggi i cittadini per veicolare le buone prassi ambientali di costo e sostenibilità molto spesso il volontariato collabora nelle scuole perché poi le nuove elevi i nuovi cittadini sono nelle scuole quindi educandoli prendendoli progettando con loro ad esempio le piste ciclabili poterli utilizzare sono progetti che le nostre associazioni realizzano partendo da una da una buona idea coinvolgendo i giovani i futuri cittadini si parla di orto urbano la festa dell'albero l'escursione la riscoperta del patrimonio ambientale storico ma anche tutta una serie di la tutela e il recupero dell'ambiente non esiste un volontariato di serie A o un volontariato di serie B penso che credo ne sono convinta che ogni ogni volontario svolge la sua attività in quella nicchia di spazio per poterlo poi dopo capitalizzare per il futuro sensibilizza la cittadinanza su temi ambientali pensiamo al discorso molto vivo adesso sul discorso delle fognature ad esempio la tutela dell'ambiente della fauna degli animali il volontariato promuove l'integrazione dei diritti civili molta iniziativa anche sul carcere la lotta sui diritti ai diritti civili l'integrazione faccio una carrellata veloce ma che non rende giustizia a veramente le tante attività che il volontariato fa il volontariato ha anche una responsabilità sociale che si attiva e si organizza nelle emergenze chiaramente protezione civile è sempre sotto l'occhio di tutti quando ci sono i casi di emergenza però offre servizi comunque alla nostra cittadinanza anche a supporto delle iniziative però voglio sfatare alcuni luoghi comuni quando si parla di volontariato non è vero che il volontariato è un agire lasciato al caso chi fa il volontario lo fa tanto per fare lo fa a tempo perso fare il volontario vuol dire comunque investire del tempo il volontario viene formato fa corsi di formazione adesso pensando protezione civile in occasione del rientro dell'emergenza nella Bruzza avevano fatto un corso di psicologia dell'emergenza per tutelare proprio i volontari che erano stati coinvolti a livello emotivo e ci sono tante altre realtà molte associazioni prima di mandare il volontario ad esempio a fare volontariato nei reparti oncologici fanno una formazione di un anno per tutelare il loro equilibrio perché è un forte coinvolgimento emotivo un altro luogo comune da sfatare è che non è vero che il volontariato si inizia a fare da pensionati questo è un luogo comune che occorre sfatare perché molti giovani investono competenze e tempo nel volontariato vendendo secondo me cara la pelle su farvi dire che anche i giovani hanno la possibilità e le capacità di fare le cose a volte anche con strumenti innovativi scusate il termine un po' però amo dare visibilità a tutto il volontariato nelle sue sfaccettature queste sono ad esempio di alcune associazioni prettamente giovanili ma che comunque hanno ormai una vita bella consolidata vi lancio una sfida vi dico di visitare il sito di volontarimini per appassionarmi al volontariato e avere una bella lente di ingrandimento sul nostro volontariato che è l'humus di questo progetto e di cliccare sulla piattaforma di eticarim per investire sui progetti penso che è proprio la caratteristica della bellezza della capacità delle associazioni di cogliere i bisogni sul territorio di dargli una risposta ma nei settori più svariati dall'ambiente ai animali anche quei temi che come si diceva prima non sono così accattivanti ammiccanti però che toccano in fondo al nostro cuore dove ognuno di noi si può ritrovare quindi clicchiamo e diamo vita a questi progetti grazie 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 a Silvia Maraschio per questo bel quadro del volontariato liminese che ci ha fatto carico di entusiasmo di passione a questo punto dare la parola a un prete di prima linea la posso definire così immagino qui c'è scritto prete operai ma credo che nessuno più di lei sia un prete in prima linea nella battaglia quotidiana contro il bisogno e contro l'emergenza sociale ecco direttore della Caritas Rimini è sicuramente un personaggio molto noto ecco mi piacerebbe che lei ci in qualche modo parlasse di come in prima linea si possa utilizzare uno strumento come quello che oggi ci propone e ti cari ho accolto volentieri l'invito perché questa assemblea mi permette di rivolgere e portare calorosi ringraziamenti a tante persone vedo volti amici volti che sono accanto al nostro lavoro quotidiano ringraziamenti che naturalmente molto sempre volentieri rivolgo anche ai 150 volontari che nella sola Caritas diocesana quotidianamente con frequenza offrono le proprie capacità il proprio tempo la propria disponibilità nel servizio dei poveri un ringraziamento che è dovuto proprio perché l'aiuto e la vicinanza affettuosa calorosa ci sostengono basti pensare ad esempio al fondo lavoro in pochi mesi sono stati raccolti più di 300 mila euro è vero che la Caritas ne ha messo 100 mila ma tutti gli altri sono stati raccolti anche da privati oltre che da enti istituzioni aziende sono stati già avviati più di 30 persone al lavoro quando il volontariato si muove forse ha molto da insegnare in efficienza anche alle istituzioni la Caritas diocesana svolge un lavoro centrale di servizio ed educativo ma è capofila e organizza una rete di aiuto di assistenza di volontariato che passa attraverso le oltre 50 Caritas diocesane c'è subito una buona notizia quest'anno stanno diminuendo leggermente ma diminuendo i poveri che vengono alla Caritas sarebbe un'ottima notizia se fosse il segnale del superamento della crisi purtroppo la causa è un'altra molti immigrati sono andati a casa ecco perché diminuiscono gli immigrati purtroppo aumentano in maniera significativa gli italiani dall'inizio dell'anno nei primi nove mesi abbiamo già incontrato più volte due mila e duecento persone poveri che vengono a chiedere aiuto nei primi nove mesi siamo passati dai 64 mila pasti dell'anno scorso nel corrispettivo tempo a più di 71 mila pasti da 12 mila notti di accoglienza a oltre 14 mila certamente un albergo che fa invidia a tanti altri della nostra riviera famiglia insieme che fa prestiti fino a mille euro a famiglie in difficoltà quest'anno nei primi nove mesi ha già aiutato 400 famiglie per un totale di 360 mila euro il 60% delle richieste è per affitto e utenze questi sono per il 60% italiani per il 40% stranieri già residenti a Rimini da molti anni abbiamo attivato dall'inizio dell'anno scolastico il servizio di cancelleria sono già passate più di 100 mamme a ritirare materiale scolastico per i propri figli abbiamo un centro educativo che fa il dopo scuola tre giorni alla settimana a 40 figli di immigrati conosciamo direttamente dunque i bisogni delle famiglie in difficoltà ed è proprio per questo motivo che abbiamo lanciato il progetto un progetto che vuole essere risposta innanzitutto ai bisogni primari il pacco viveri sappiamo benissimo che è ben poco molte volte è quello che permette la sopravvivenza quando alcune famiglie e non abbiamo motivo di dubitare dato ormai la familiarità con la quale ci incontriamo e ci conosciamo quando alcune famiglie dicono che sono due giorni che non mangiano ecco questo credo che faccia scattare la necessità di risposte immediate e proprio per questo motivo abbiamo anche attivato già da tempo il servizio degli aiuti finanziari se quelle di famiglie insieme sono prestiti che facciamo e qui purtroppo siamo passati dall'inizio della crisi quando le insolvenze erano dal 20% alle 35-40% di insolvenze attuali quindi la richiesta naturalmente di reperimento di fondi per poter mantenere il servizio se famiglie insieme dicevo fa prestiti gli aiuti finanziari che diamo alle famiglie che vengono in carita a prendere il pacco viveri o a chiedere altri aiuti sono aiuti finanziari a fondo perduto dall'inizio dell'anno abbiamo già dato 90.000 euro e questo sono per le bollette per i viaggi in Italia e di ritorno a casa per la sanità ticket e medicine per la scuola quante mamme sono venute a chiedere un aiuto per poter lasciare i bambini alla mensa scolastica i propri figli alla mensa scolastica ma anche semplicemente le schede telefoniche per poter telefonare alla mamma malata in Marocco è vero che bisogna essere attenti sensibili e dare risposte anche ai cani che sono in fase terminale ma se ci commuoviamo di fronte a queste situazioni che dire quando una mamma viene col figlio piccolo in braccio a dirci che hanno interrotto la fornitura del gas della luce dell'acqua ecco questi sono i nostri bisogni ed è proprio per dare risposta a questa ultima parte dei bisogni ai quali ho accennato che abbiamo lanciato il progetto credo che con il ringraziamento anche l'estrema fiducia che certamente in molti continueranno ad aiutarci nel servizio di risposta ai bisogni primari della famiglia in tempo di crisi grazie grazie a Don Gradara questo appuntamento si sta velocemente avviando alla conclusione se permettete prima di passare il microfono al presidente Bonfatti che farà i saluti e i ringraziamenti del caso volevo concedermi una piccola parentesi come responsabile della redazione del Carlino per dire che anche noi siamo a fianco di questo progetto faremo tutto quello che si può fare e tutto quello che deve fare il giornale che in qualche modo racconta la società per appoggiarlo e mi faceva un po' riflettere anche quello che diceva il presidente Bonfatti che dice per la prima volta una banca mette a disposizione della cittadinanza qualcosa di gratuito e io credo che in questo atteggiamento ci sia una risposta che dobbiamo dare tutti tutti dobbiamo fare qualcosa a cui prima non eravamo abituati voi del volontariato magari dovrete cercare di strutturare meglio le vostre proposte e le vostre idee per uscire diciamo così da questo impasso noi della stampa dobbiamo anche noi dare più voce a un'area del bisogno che come ci raccontava gradata è sempre più più grande di quello che immaginiamo noi usiamo una frase nei giornali in cui diciamo che la realtà è sempre più grande di quello che noi la immaginiamo la realtà è sempre più enorme di come noi la immaginiamo e quindi questa proposta secondo me costringe tutti a mettersi di fronte a un cambiamento io credo che si possa accettare questa sfida e sono convinto che con queste premesse si possa anche tentare di vincere grazie bene ringrazio io chiudo questi lavori perché credo che non avremo tempo e non vorremmo abusare ulteriormente della vostra pazienza per dilungarci ulteriormente noi poi ovviamente siamo qui e siamo a disposizione per chi avesse qualche esigenza di carattere informativo supplementare perché non si tratta soltanto di un progetto telematico ma che coinvolge e coinvolgerà anche una serie di dipendenti della banca che voi vedete al mio fianco e che sono sparsi anche fra il pubblico e che ringrazio perché sono quelli che hanno anche contribuito a traghettare l'esperienza di banca di credito in banca Karim non soltanto coloro che lavoravano in banca di credito ma anche coloro che hanno preso a cuore la continuazione di questa vocazione anche in una banca commerciale poi le ditte che ci hanno aiutato da un punto di vista tecnico che anche per rispondere a una sollecitazione che è venuta proprio dal territorio abbiamo individuato nel territorio stesso sono aziende di Rimini o aziende di Riccione aziende comunque della Romagna in digitale per la piattaforma web e in udada per la campagna pubblicitaria e soprattutto lasciatemi dare un ringraziamento particolare a Dixit e in particolare a Dottor Miserocchi a cui ci eravamo affidati per la impostazione del nostro portale da un punto di vista come dire telematico in realtà ci ha aiutato a mettere a punto il progetto perché le piattaforme di questo genere sono numerose gli esperimenti di questa natura sono altrettanto numerosi lo diceva il professor Melandri ma lasciatemelo ripetere non sono tutti stati coronati da successo e allora sarebbe veramente piacevole da un punto di vista come dire della banca di aver avviato qualche cosa che si rivela inutile e credo dal punto di vista del territorio non essere stato in grado di utilizzare uno strumento che sulla carta funziona ma che evidentemente ha bisogno della collaborazione di molti per poter dare dei risultati concreti io spero molto che con la vostra collaborazione si avrà una soddisfazione reciproca della banca per avere pensato uno strumento e il territorio per avere potuto utilizzare uno strumento funzionale per conseguire i suoi obiettivi grazie molto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti